Bologna Inside, oggi abbiamo alla presentazione del libro Un saluto ai ragazzi, dedicato alla società Fortitudo, Marrese, parlaci di questo libro. Ecco, questo è un libro di racconti legati al mondo della Fortitudo, legati a quello che è il nostro vissuto, siamo in tre, Marrese, Venturi, Filippo e Governa Cristiano. Questo è Venturi. Come a scuola, prima il cognome e poi il nome. Abbiamo la fortuna di essere tre Fortitudini, abbiamo la fortuna... Anch'io e non me ne vergogno. Esatto, già mai. E quindi ci siamo divertiti, siccome ci diverte scrivere, a inventarci delle storie più o meno inventate, più o meno affondate con un embrione di realtà dentro, tutte legate in qualche modo alla Fortitudo, ma soprattutto a come abbiamo vissuto un po' tutti noi Fortitudini, la Fortitudo in questi ultimi 20-30 anni di storia. Non sono racconti di partite, non sono racconti di giocatori, non sono profili, non ci sono statistiche, non ci sono numeri. C'è molta fantasia e molta Bologna e molto maschetto, ovviamente. Si sarà scritto il momento più bello e il momento più brutto che hai vissuto con la Fortitudo? Tutti allo stesso modo equipollenti. Diciamo che essere fortitudini comporta, credo, due fasce della stessa medaglia, che sono l'essere molto collegati, attaccati a questo senso di appartenenza che ci rende undici al mondo, ma al mondo, nell'universo, però allo stesso tempo anche un po' vulnerabili, perché abbiamo questo modo di fare, di crederci molto e di collegare gli aspetti dello sport a quelli della vita e quindi l'essere fortitudini è un modo di vivere la propria fede che diventa un modo svivendi quasi e quindi diciamo che sono due fasce della stessa medaglia. Ogni tanto ci sparisce la squadra, ma è un dettaglio, a volte c'è, a volte non c'è, ma l'importante è che ci siamo noi. Abbiamo un terzo che si chiama? Cristiano, governa. Cristiano, c'è anche un po' la fortitudine di oggi dentro il libro? Beh, poco, devo dire la verità, cioè c'è la fortitudine di oggi, però insomma diciamo anche vista la nostra età credo che ci sia una fortitudine pionieristica, forse se vuoi anche quella un po' sfigata degli anni 80-70 che però secondo me a noi piaceva molto. Un vuoto di contenuti adesso, cioè ho detto quello che dovevo. Bene, grazie. Signori, che dire, viva la fortitudine.